Siamo qua con Jonas, Edo, Gabri, Raya, Momo, Momo. Cosa ne pensate dei Maranza? Mi faccio parte. Mi faccio parte. Tutti, tutti? Sì, mi faccio parte. Ok. Ma è normale, già ne sono. Allora ragazzi, questo ragazzo vi sembra Maranza? Te che dici? Sì, veste più UK che Maranza. Però l'abbigliamento. Vestirsi spacca però... A voi piace vestirvi così? Sì. Certo, in questo modo. Ok, io vi sembro un Maranza? No? Poco. E voi come va ragazze? Come va ragazze zanzo? Vi piacciono oppure vi piacciono quelle ragazze normali? Mi vuoi il flusso. Ah, vuoi il flusso? Cos'è? Ti metti con le ragazze per cosa? Mi sposa una vecchietta che sta per morire domani. Spaccato, ok, ok. Scriveteci tutti sulla nostra pagina su TikTok, io Maranza.